Tricon Zombie Apocalypse We're sitting out for a while Contacters with urchin We request a solar plate This precaution points To a grid orchestra So let's pour a little Grazie. 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 Tanto un secondo che rispondo all'altro telefono, se lo trovo. L'ho vista in Francia, ma perché mi ho seguitato? Benissimo, allora aspettiamo di vedere perché quello che dirà Salvini è importante, quello che dirà Letta è importante. Sono, sarei d'accordo. Grazie. Mi hanno disposto. Allora, ragazzi, è fatto. Praticamente. E sto lavando dei piatti, perché ancora nessun gruppo mi ha risposto. Quindi, questo è la mia pazienza. Lo seguo lo stesso. No, ancora? No, ancora? Troppo. 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 Sono lavando dei piatti in una scena migliore. E io non ho tanto attacca delle commissioni. Adesso questo per sciogliere guarda se vede qualche cosa per qualche persona che mi fa rispondere ma non pare che niente tabula rasa come al solito non importa dai pazienza sicuramente bisogna capire anche se prevale la situazione di Sardini per certi versi è anche peggiore perché lui è detto che la nuova di 100 direzzi soprattutto vi stanno lacrimando e gli ultimi dettagli anche lì c'è un dato territoriale che è devastante perché è il dato del nord soprattutto la Liga tra colla e che lì sono sconici e falisce definitivamente il progetto la Liga nazionale che era stato il grande punto di forza di Sardini si può considerare un progetto seppertito quindi per certi versi e sia un progetto di Liga nazionale nonostante adesso dovrà contrattare un posto nel governo vedremo che cosa riuscirà a fare cioè si allontana anche il sogno del ritorno al minimale che già è un bravo a casa politica questo risultato diciamo aiuta a tenerlo lontano dal ritorno al minimale questo sì bisogna dire davvero cosa farà da grande sempre incredibile perché da un lato è difficile che possa restare la vita del partito in questo momento come un partito che sarà nella coalizione di governo avrà il suo ministro nel governo di loro il mio esercio che fa il segretario di un partito nel ruolo minore nella coalizione di governo di persone che ci sentiamo che ci sentiamo che è possibile come è successo ? ho quasi finito per ragazze mie di lavare i piattini non era nulla di che questo video però volevo tenere un po di compagnia sia utile, sia interessato, sia real soprattutto evidentemente tra le anni a questo problema secondo me ce l'ha sì non c'è dubbio perché forse l'Italia comunque è un altro partito che ha dimezzato le aspettative è veramente basse e che c'è troppo più ecco 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 ve lo risciacquiamo allora qui c'è un altro di tucchiaino oggi la televisione non è al massimo ragazze non sta facendo chissà che la televisione nel senso che non si vede bene e quindi fa un po' di fattrici forse l'antenne non l'ha messa ancora vabbè lascia vedere chissà come l'hanno messa l'antenne io non l'ho ancora vista ma ce l'ho più salita sulle terrazze sulle terrazze che sono che è successo per me che è successo per me che è successo che è strano io non la trovo è stata spaventata l'antenne la 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 no con chi eri con chi eri chiuditi la porta perché stai registrando se devi entrare in bagno chiudi che stai registrando questa cosa che tra l'altro ne rivendica che poi il proprietario dell'albero è quel periodo dell'albero verde ecco che l'ha piattato diciamo che l'ha fatto credere riduci dell'ottanta per cento i tuoi denti strani grazie al nuovo codice torna a essere l'imprenditore cfc trova la tua forza trova la tua bellezza chi ha detto che i libri sono tutti uguali? no 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 Grazie a tutti. 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 Noi ci vediamo nel prossimo video di un blog, che sia outfit e quello che è, e ci vediamo in un altro video. Ciao, a presto. Un bacio.